21-22 aprile 2012. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, pregate, pregate sempre, pregate con gioia e viva speranza, perché Dio vuole concedere proprio in questo tempo le cose più meravigliose. Molto ottiene chi molto prega, molto ottiene chi grande fiducia ha in Dio. Figli amati, dipende da voi avere molto o poco. Se molto volete, molto dovete dare a Dio, mettendolo al primo posto nel pensiero e nel cuore. Figli cari, in questi anni vi ho detto tutto ciò che mi era consentito di dirvi. Voi sapete ciò che dovete fare, fatelo, senza indugio, e preparatevi con le scelte, secondo il cuore di Dio, un futuro felice. Se siete un po' provati, benedite Dio, lodatelo ed adoratelo. Se siete molto provati, considerate un dono le prove, un dono d'amore. Lodate Dio ed adoratelo. Chiedete aiuto e lo riceverete, perché il suo cuore è amore, solo amore, sempre amore. Figli cari, voi non vivete appieno le mie parole, se lo faceste, già sareste nella pace del cuore e nella gioia profonda, che nessuno può rubarvi. Rivedete i miei messaggi e viveteli, giorno dopo giorno, con gioia. Voglio, figli amati, voglio trasmettervi una stilla della mia gioia in Dio. Uniamo i cuori per l'adorazione a Gesù, Signore della storia. Vi amo. Figli cari e tanto amati, lasciatevi andare nell'onda suave dell'amore di Dio e non tremate, se vedete crollare tutto intorno a voi. Figli amati, la terra gronda peccato e deve essere purificata da capo a fondo perché esca nuova e bella, dalla prova. Voi mi dite e siamo provati, gemiamo, vedendo andare male le cose, gemiamo nel profondo. Questo mi ripetete. Ora ascoltate le mie parole Dio sempre toglie per dare di più. Capite bene questo dopo il crollo generale, ci sarà la terra bella e nuova. Capite che Dio non vuole togliere la gioia, ma aumentarla, usa, quindi, le sue strategie, che sono quelle di chi ama teneramente. Capite, figli amati, tutto questo? Mi dice la piccola figlia madre cara, madre buona, dolce tesoro, l'uomo, provato dal dolore, non capisce molto, si lamenta e geme, quando, poi, la prova è più dura, si lascia prendere dalla mestizia e rasenta la disperazione. Questa è la sua debolezza. Tu, madre cara, la conosci. Intercedi per ogni uomo, che si trova nella grande prova ottieni un alleggerimento del dolore ed un rafforzamento della fede. Figli amati, questo già sto facendo. Capite bene che ogni prova superata diventa gioia. Accettate da Dio ogni prova, capite che Egli è sempre amore, solo amore, tutto amore. Uniamo i cuori per adorarlo dal profondo dell'anima. Vi amo tutti. Ti amo, Angelo mio. Maria Santissima.